Ciao a tutti e bentornati nel nostro appuntamento avvelenato della settimana. Allora, oggi vi porto una storia italiana abbastanza recente. È una storia che sicuramente molti di voi conosceranno. Tuttavia, ho deciso di portarla perché la conoscevo bene e anche perché ha molto a che fare con la manipolazione, con le tecniche di manipolazione e io mi sto appassionando sempre più a queste tematiche. Anche perché mi rendo conto che sono una persona che può cadere facilmente nella manipolazione, magari non a livelli estremi, però a livelli nel quotidiano, posso essere manipolata, secondo me, perché sono una persona molto empatica che in linea generale è molto fiduciosa verso il prossimo come impronta. Quindi, secondo me, ho più una tendenza a essere magari manipolata e quindi saper riconoscere certi segnali o comunque ascoltare questo tipo di storie anche portate sul canale, secondo me, può aiutare molto. Diciamo che in linea generale mi affascina molto il tema della manipolazione mentale. Come spesso è mio costume, decido di partire iniziando dalla fine e poi tornando indietro a ritroso. Parto col dirvi che questa è la storia di un incontro davvero funesto, uno di quegli incontri che non sarebbero mai dovuti avvenire. L'incontro tra una giovane donna di origine brasiliana, Ammariglia, di 29 anni, Claudio Grigoletto, un uomo che all'epoca dei fatti, nel 2012, ha 31 anni, è sposato, ha una figlia piccola, un'altra in arrivo, è un pilota di aerei commerciali, istruttore di velivoli leggeri e manutentore degli stessi. Ed è proprio il caso di dire che Galeotto fu il suo lavoro. Proprio nell'anno 2012, Claudio Grigoletto decide di aprire un'attività insieme ad un socio. vogliono vendere aerei ultraleggeri in Brasile. Gli uffici dell'attività vengono collocati a Gambara, in provincia di Brescia, e l'idea è di aprire nel settembre del 2013. Claudio gestisce già una scuola di volo dal 2011, con sede a Bedizzole. Tuttavia, come sapete, allora il mercato dell'aviazione italiana inizia ad essere pesantemente in crisi, e quindi Claudio si guarda intorno cercando il suo business. Il nuovo business di Claudio però non vedrà mai la luce del giorno, perché il 30 agosto del 2013, a pochi giorni dall'apertura ormai imminente della sua nuova attività, negli uffici di questa futura società di Claudio viene ritrovato un cadavere. È un venerdì e il proprietario dell'immobile, Consaduri Giacomo, va nello stabile per ritirare alcuni documenti. La porta è chiusa a chiave, e lui ovviamente la apre, ma quando entra c'è un odore fortissimo di gas. Preoccupato quindi di una possibile fuga di gas, va subito a controllare l'interno dell'abitato e scopre un cadavere. È il corpo di una giovane donna, la bellissima Marilia Rodriguez Silvia Marti, di 29 anni. Viene subito logicamente alertata la polizia, perché è evidente che la giovane donna è morta da diverse ore, se non giorni. La prima cosa che si cerca di capire è da quanto. Un testimone oculare nella zona che viene ascoltato di nome Dario Pizzini dichiara di essere passato il 29 agosto del 2013 proprio da lì, quindi il giorno prima del ritrovamento, in via Veronica Gambara. L'uomo è la guida di un mezzo operatore, sta andando verso un cantiere della zona e passando con la coda dell'occhio vede queste due persone sulle scale di quel fabbricato dove verrà rivenuto il corpo. Sono circa le 15 del pomeriggio e l'uomo li nota. Vuoi perché è molto curioso? Vuoi perché di solito lì non ha mai notato nessuno prima? Ed ora invece eccoli lì una donna seduta sui gradini mentre un uomo in piedi dietro di lei. E qualcosa in cui la scena lo colpisce. L'uomo prosegue, si ferma al cantiere per i suoi lavori, passa lì circa 45 minuti e poi torna indietro ripercorrendo il tragitto aritroso, ma non vede più nessuno fuori e butta nuovamente l'occhio, anzi si ferma proprio a guardare la targhetta fuori dallo stabile perché è una targhetta che non ha mai notato prima. C'è scritto Alpi Aviation. Sì, perché in quello stabile c'è proprio l'ufficio come vi ho detto della società di Claudio Grigoletto, la LK Aviation. All'interno ci lavorano tre persone, due soci, Claudio Grigoletto e Tomilini Roberto e la loro segretaria Mariglia, la vittima. Ma chi è Mariglia? Mariglia arriva in Italia giovanissima dal Brasile, frequenta le scuole superiori, inizia a lavorare come hostess per alcune linee di volo commerciale e poi nell'estate del 2012 conosce Claudio che le offre un lavoro. Risponde ad un annuncio su un giornale, come molte persone fanno, perché la società di Claudio cerca una persona che parli portoghese, inglese e preferibilmente che sia brasiliana e che sappia usare anche discretamente il PC. Tra le varie candidate a mani basse vince Mariglia, soprattutto perché ha già lavorato come assistente di volo, quindi conosce già quel mondo. Tra i vari compiti di Mariglia lei deve fare da interprete, ma le viene anche prospettato di divinire una socia brasiliana della società. Prima però chiaramente è necessaria una conoscenza che si conclude nel febbraio del 2013 con un'assunzione. Claudio dichiara che Mariglia prendeva uno stipendio, uno stipendio di circa 1380 euro al mese e quindi insomma tutto proseguiva a gonfie vele. Ora però torniamo al corpo di Mariglia un attimo perché se fosse stato un incidente o un malore chiaramente la storia sarebbe già finita qui. Non ci troveremo sul mio canale. Tragico e triste ma con una spiegazione. Invece no, il corpo di Mariglia presenta un cordone rosso e livido intorno al collo. È stata stagolata ed è stata piccata al volto a mano aperta. È proprio contusa a livello della guancia e dell'occhio. Ha inoltre sbattuto violentemente il capo nella parte posteriore. Ma come sempre l'autopsia riesce a regalarci quell'orrore in più perché al momento della morte c'era una vita dentro di lei. La giovane donna era incinta al quarto o quinto mese di gravidanza e attenzione attenzione facendo un'analisi del profilo genetico vi dico tutto subito così fuori dei denti comparata questa analisi con le figure maschili che le ruotavano attorno si scopre ma senza nemmeno troppo stupore perché così va il mondo che il padre del bambino è proprio il datore di lavoro di Mariglia Claudio Grigoletto e questo è un punto da cui noi dobbiamo partire come abbiamo detto Claudio Grigoletto è un uomo all'apparenza tranquillo un marito e un padre ma analizzando meglio il suo profilo psicologico e le sue conoscenze si scopre che in realtà ha la fama di essere un gran ciarlatano un gran bugiardo e anche una gran faccia tosta perché dico questo? non perché mi stia antipatico a prescindere ma perché da subito dà prova di questo ha il coraggio di negare inizialmente qualsiasi rapporto con Mariglia ad eccezione di quello lavorativo nonostante il profilo genatico beh che che lunedic è chiaramente il sospettato numero uno intanto perché Mariglia è stata trovata morta nell'ufficio della sua società inoltre la giovane aveva avuto con lui quanto meno almeno un rapporto intimo quello che aveva portato ad un frutto quello del suo grembo e lì non ci non ci piove ma soprattutto nonostante le sue continue negazioni gli inquirenti scoprono un fatto che potrebbe sembrare insignificante ma che poi si rivelerà determinante una telefonata un'intercettazione intercorsa tra un'amica di Rigoletto che frequenta molto il suo ambiente tale Trebi Federica e un meccanico che di tanto in tanto lavora all'aeropista Stefano Pezzi Stefano chiama spaventatissimo Federica per un confronto e le dice che dalla cassetta degli attrezzi è sparita la chiave inglese tipo papagallo ora io non vi ho ancora descritto bene la scena del delitto anzi per niente ma c'era un dettaglio non da poco un bullone svitato da cui era fuoriuscito il gas che appunto aveva causato questa perdita e il proprietario si era allarmato e aveva scoperto il corpo Stefano quindi racconta a Federica molto agitato che questo papagallo lui non l'ha più trovato nella cassetta le dice di aver interpellato Claudio per chiedergli se l'avesse preso lui dal momento che le chiavi le avevano solo in due persone ovviamente il manutentore e Claudio Federica però lo interrompe con un'urgenza corri Stefano vai dai carabinieri vai a lo dire dunque Stefano va subito a raccontare questo dettaglio e perquisito il campo volo trovano nel cassetto di Claudio questa chiave inglese il pappagallo il riso l'analizza e dichiara che è compatibile come strumento con quello utilizzato per svitare il bullone della caldaia sulla scena del delitto a questo punto Claudio Grigoletto ammetterà in maniera molto candida di averlo svitato sì ma non sa perché lo ha fatto perquisendo poi meglio il campo volo trovano accanto alla chiave inglese uno scontrino debitamente conservato la data è quella della mattina dell'omicidio e documenta l'acquisto di candegina e acido muriatico in un supermercato poco distante e anche questo è un indizio non da poco dal momento che sul corpo di Mariglia sono stati versati proprio questi due liquidi sia acido muriatico che ammoniaca il corpo poi era stato coperto da foglie di giornale e avevano tentato senza esito di dargli fuoco ma chi li ha acquistati? non ci sono molti dubbi sempre Claudio Grigoletto le telecamere a circuito chiuso di un bar vicino al supermercato lo riprendono mentre va verso il supermercato e poi mentre ritorna con una busta contenente dei flaconi le prove insomma sono così schiaccianti che io non ci giro attorno e vi dico subito vi tolgo il colpo di scena che è stato davvero lui ad uccidere Mariglia non mi tengo proprio sulle spine infatti due settimane dopo il delitto Claudio Grigoletto crolla e confessa tutto ora però c'è tantissimo da dire perché si apre un grande interrogativo perché Claudio ha ucciso Mariglia? ovviamente quando Claudio Grigoletto confessa non dice semplicemente io l'ho uccisa fornisce una confessione una sua versione ma bisognerà stabilire se è reale o se è un castello di menzogne come la sua intera vita come pare che sia la sua intera vita perché parto con dirvi che Claudio Grigoletto si presenta a tutti come un giovane pilota e istruttore di successo ambizioso e intraprendente ma in realtà la sua vita professionale e sentimentale è caratterizzata da precarietà bugie e disagio Claudio racconta che nel 2012 nevicò moltissimo anche qui in Romagna ancora lo ricordiamo come l'anno del nevone quindi i voli nell'inverno erano ridotti e la scuola di volo aveva iniziato a soffrirne lui quindi aveva bisogno di una figura come quella di Mariglia che facesse da interprete per permettere di certificare ieri punto imprescindibile per poterli poi vendere e quindi per partire con la sua attività in Brasile Mariglia era anche necessaria per tutti quegli incontri con gli studi legali e con le varie commissioni che andavano fatte in Brasile perché spesso i funzionari masticavano a malapena l'inglese quindi i due soci decidono di partire per il Brasile con questa splendida ragazza che è Mariglia e mentre sono in viaggio tra lei e Claudio scoppia una bruciante passione Claudio racconta che tutto inizia lì cioè lui non ci aveva pensato prima quando l'aveva assunta ma una volta in Brasile complice l'hotel la lontananza da casa lo stress che Claudio dice di provare in quel periodo e una connessione di Galeotta che non funziona Mariglia invita Claudio in camera sua e anziché sistemare la connessione beh ci siamo capiti inizia una relazione assolutamente clandestina dal momento che Claudio non è libero è sposato ha una figlia piccola di due anni e sua moglie è incinta della loro seconda bambina nonostante questo non ha nessuno scrupolo la relazione inizia e continua con estrema passione fino alla battuta d'arresto che non è la morte di Mariglia ma a giugno Claudio scopre di aspettare un figlio non soltanto da sua moglie ma anche dalla sua amante Mariglia è incinta è la stessa Mariglia a comunicarglielo e per Claudio è una doccia fredda vi ricordate il loro primo appuntamento clandestino in hotel in Brasile? beh quella volta lì complice la passione non programmata la coppia non aveva un contraccettivo ma Mariglia aveva rassicurato Claudio non ti preoccupare io non posso rimanere incinta perché ho fatto un'operazione sia ai reni e poi anche ginecologica quindi posso rimanere incinta solo con l'inseminazione questo gli spiega quindi Claudio non si fa troppi problemi insomma non è non è un uomo sicuramente che ragiona molto sulle conseguenze ecco quando Claudio apprende della gravidanza dichiara di essersi mostrato anche contento non era arrabbiato però era consapevole di avere già una famiglia con cui fare i conti Claudio ci tiene a sottolineare molte volte quando viene interrogato che lui desiderava quel bambino di essere addirittura gioioso di quel terzo figlio nel arrivo perché ovviamente se non fosse così la gravidanza di Mariglia potrebbe essere davvero il movente della sua morte questo è certo quindi a Claudio conviene comunque dire che desiderava tanto questo bambino però vi devo dire che ci sono anche dei messaggi che confermano Claudio mostra dei messaggi che lui invia a Mariglia mentre lei è ricoverata in ospedale per un malessere e dove lui le dice in tono tenero ti prego amore ora che sei in ospedale non abortire non fare stupidaggini quindi insomma lui comunque sicuramente a Mariglia diceva questo passiamo ora alla situazione finanziaria di Claudio Grigoletto perché anche questa è pessima come lui stesso dichiara è costretto innanzitutto a licenziarsi da pilota di linea perché la sua compagnia fallisce lui inoltre non possiede un aereo per la sua scuola da istruttore ma ne paga uno a noleggio quindi sostiene tante spese non ha più lo stipendio fisso paga un affitto paga il carburante e la manutenzione degli aerei in noleggio che usa appunto nella scuola di volo quindi insomma è un uomo estremamente stressato perché economicamente è a terra proprio zero a questa situazione spinosa si aggiunge anche quella del nuovo lavoro e poi se ne aggiunge anche un'altra nel 2012 Claudio e sua moglie decidono di comprare la loro casa il proprietario che ha fretta di vendere la casa propone loro di acquistarla facendo subito il rogito e versando una capparra da 20.000 euro che però Claudio non possiede quindi è il padre di Claudio a versare la capparra in suo favore e al più presto fanno il rogito ma con un anno di tempo per pagare l'intero immobile versando una somma di 90.000 euro quindi come vi ho detto Claudio non pensa troppo alle conseguenze altro stress altri soldi a questo punto Claudio Grigoletto dichiara di essere stato molto franco con Mariglia come sempre del resto cioè la mette di fronte al fatto che sia lui che lei non hanno un euro bucato e che la relazione non può andare avanti lui tenta comunque di aiutarla come può perché a questo punto non può offrirle uno stipendio Mariglia non può trovarsi un nuovo lavoro non vi dimenticate che Claudio è anche il datore di lavoro di Mariglia la donna è sola perché qui non ha nessuno e quindi Mariglia in sostanza per Claudio diventa passatemi il termine brutale da amante appassionata a donna da sostenere economicamente mantenere attenzione so già cosa state pensando cioè che una gravidanza non è una malattia ma nel caso di Mariglia non è così perché lo stato di Mariglia in gravidanza è molto serio lei sta tanto male ha una gravidanza molto difficile lui quindi le deve pagare un affitto darle i soldi per mangiare per i farmaci ma figuriamoci lui fatica a mantenere la sua prima famiglia e se stesso quindi la situazione inizia a divenire estremamente tesa a luglio Mariglia inizia a stare molto male soffre di iperemese gravidica ovvero una nausea un vomito così forti che la portano ad avere tre ricoveri in un breve periodo e in questi ricoveri vi è preciso c'è sempre Claudio accanto a lei lei perde moltissimo peso dimagrisce tanto è molto debole è incapace di fare le attività che normalmente compie è anche molto stressata è documentato come Claudio si occupasse davvero di Mariglia lui la aiutava come poteva la accompagnava in pronto soccorso in ospedale chiede anche aiuto a questa sua amica Federica di ospitare Mariglia ma le cose iniziano ad essere umanamente molto difficili soprattutto per Mariglia perché si sente uno scarto un peso la seconda scelta sempre è anche molto nervosa ha degli scatti di ira perché comunque ha uno stato emotivo e anche legato alla gravidanza particolare anche perché in effetti anche se Claudio Grigoletto è sempre stato molto premuroso con lei all'improvviso un evento nella sua vita cambia l'atteggiamento che ha verso Mariglia quel giorno è arrivato la nascita della sua seconda bambina la figlia di Claudio Jessica sua moglie lo porta lontano da lei questo evento fa proprio mutare il comportamento nei confronti di Mariglia non è soltanto la nascita della bambina in realtà lui inizia a sentirsi sempre più oppresso da questa seconda vita che non è più leggera e scanzonata ora è pesante è colma di sguardi di rimprovero e di pretese Mariglia inizia ad agitarsi dopo la prima settimana in cui gli concede i suoi spazi torna a chiedere aiuto soprattutto perché all'improvviso lei si ritrova dal giorno alla notte in mezzo ad una strada non so bene che cosa sia avvenuto ma Federica la mette alla porta perché loro non vanno d'accordo e hanno delle discussioni continue lei non ha un altro domicilio non ha più nessun lavoro non ha nessuno quindi torna chiaramente a bussare alla porta del padre del bambino di Claudio pretendendo da lui un aiuto immediato soprattutto di trovarle una nuova abitazione si mettono quindi d'accordo sul fatto che Mariglia avrebbe cercato una casa con il pc di Grigoletto e poi lui l'avrebbe portata a vederla e fanno così Mariglia da un hotel dove alloggia momentaneamente cerca case e poi insieme vanno a vederle quindi prima vanno a Gambara da un amico di Claudio a vedere un'abitazione conveniente cercano un alloggio di fortuna perché Claudio spiega che lui non aveva nessuna intenzione di lasciare sua moglie inizialmente ci aveva pensato ma poi sia lui che Mariglia avevano convenuto che lei sarebbe andata via da sola in Brasile ad occuparsi dell'azienda e che lui non le avrebbe mai fatto mancare nulla né a lei né al loro bambino ma non sarebbero mai stati una famiglia nel vero senso del termine Mariglia quindi dovrebbe cercare questa casa per un appoggio ma in realtà sembra avere nella pratica molte pretese perché gli appartamenti che vede non le piacciono sono troppo piccoli e solo alla fine sceglie la casa più grande che vedono cioè un trilocale che è più costoso ma soprattutto non è arredato e qui sempre secondo il racconto di Claudio iniziano le discussioni gli attriti perché Mariglia si impunta cioè non facilita le cose anzi sembra quasi che a questo punto si voglia vendicare di Claudio e fargliela pagare viene descritta come una donna molto esigente e capricciosa nonostante Claudio cerchi comunque di farla vivere dignitosamente per quelle che sono le sue possibilità la fa alloggiare intanto che aspettano i casi in un albergo l'albergo Sullivan dove rimane fino al 29 agosto del 2013 ovvero il giorno in cui lei muore il 29 agosto Claudio racconta la giornata dice di aver sentito Mariglia fin da quando si trova in autostrada per recarsi al lavoro quella è l'ultima notte di Mariglia all'hotel e è già stato concordato quindi Claudio si accerta che per lei sia tutto chiaro per quella notte lei avrebbe dormito in un altro hotel un hotel di Gambara che è vicino all'ufficio un filmato che non vi posso mettere mostra Mariglia che porta i bagagli in auto insieme ad un addetto dell'hotel e poi al telefono mentre avvisa Claudio Grigoletto alle 11.15 abbiamo le ultime immagini di questa ragazza che sta andando incontro ad un destino davvero crudele lei arriva in ufficio a Gambara alle 12.05 quindi percorre i 50 minuti canonici previsti per raggiungere quella meta chiama ancora Claudio quando arriva e gli chiede di parcheggiarle la macchina in un punto all'ombra dal momento che è molto caldo e lei ha paura poi di riprendere un'auto rovente come un forno soprattutto nel suo stato a questo punto sempre secondo Claudio Grigoletto Mariglia entra all'interno dell'ufficio e si stende un po' sul divano e si riposa tutto ok poi iniziano a parlare di lavoro a sistemare un po' l'ufficio perché avrebbe aperto di lì a poco e poi lui le promette che l'avrebbe accompagnata in uno dei due hotel del posto per la notte cerca però anche di farla ragionare e soloputare verso un bilocale già arredato e meno costoso rispetto al trilocale da arredare e ristrutturare quindi hanno una prima discussione poi però ne hanno un'altra Claudio infatti chiede a Mariglia di aiutarlo quantomeno con la documentazione per l'azienda perché in quei giorni sono arrivate molte email dal Brasile da leggere e controllare e anche qui Mariglia secondo Grigoletto ha un atteggiamento dispotico cioè gli rinfaccia di chiedere ad una donna incinta di lavorare quando lei evidentemente non si sente bene sempre secondo Claudio Mariglia a quel punto tira fuori da degli scattoloni dei vestiti per cambiarsi e una piastra per i capelli poi va verso il bagno con una bottiglia di ammoniaca per pulire delle ceramiche delle ceramiche che lei teneva dentro gli scatoloni e che doveva poi appendere quindi è un po' un'incongruenza cioè non vuole leggere le email ma vuole pulire le ceramiche quando però lei svita questo barattolo di ammoniaca si sente malissimo perché l'odore è troppo forte quindi le viene il vomito le gira la testa e allora escono all'esterno per prendere una boccata d'aria nel frattempo aprono tutte le finestre per arieggiare e proprio qui il testimone che passa da lì quello un po' in piccione ve lo ricordate da via Veronica Gambara vede queste due persone sulle scale del fabbricato che conversano ma non stanno litigando Claudio poi continua il suo racconto dopo 30 minuti rientrano dentro e lui nuovamente le chiede di stampare queste email lei si rifiuta e chiede piuttosto all'uomo di sistemarle il fattore casa lui ancora le ribadisce che il trilocale non è la loro portata almeno per ora a questo punto Mariglia si arrabbia Claudio racconta che lei diventa sboccata e gli dice a me dovresti dare tutto quello che hai dato a quella corronuta di tua moglie Claudio allora in modo molto pacato le chiede di non rivolgersi così nei confronti di sua moglie Jessica questa parola quindi mia moglie la fa scattare Mariglia inizia ad alzargli le mani tenta di schiaffeggiarlo ma lui la ferma e a sua volta gli dà un marrovescio molto forte con la mano destra Mariglia che praticamente pesa quanto un gressino cade a terra si rialza a mezzo busto mentre Claudio afferma di essere corso in bagno per sciacquarsi la faccia afferma che era la prima volta nella sua vita che alzava le mani verso un altro essere umano dopo essersi ricomposto lui esce dal bagno e pensa di non trovarla nemmeno più ma invece si la trova in piedi davanti a sé con una forbice aperta in una mano e una guida di un tavolo avanzato dal montaggio di un tavolino che ha in sostanza quindi un bastone una sorta di bastone lei è in silenzio ma ha uno sguardo veramente folle prova con la forbice a passargliela sulla gola e nel mentre gli dà una bastonata secondo Claudio secondo il suo racconto è chiaro che la donna sia così fuori di sé che abbia avuto un crollo psicotico o qualcosa del genere tanto da volerlo uccidere Claudio a questo punto la guanta e la sposta e lei è talmente fragile e magra che questo spostamento la fa sbattere contro lo stipite della porta lei a questo punto cade a terra ma ancora una volta si rialza e gli dice questa frase questa te la faccio pagare ma poi all'improvviso ricade come un sasso dice lui picchiando violentemente la testa a terra Claudio a questo punto si accorge che Mariglia perde moltissimo sangue dalla testa tanto sangue lui afferma di essere rimasto sconvolto traumatizzato da quell'escalation nonostante questo però Claudio non si domina più e anche se sa che quella donna ingrembo suo figlio lui va avanti ancora oggi dice di non capire perché lui non si sia fermato quel giorno a questo punto dopo averla spinta due volte perché poi dirà di averla spinta due volte contro lo stipite della porta lui non la soccorre Mariglia inizia a dimenarsi si affare i capelli geme urla il sangue scorre come un rigagnolo che diventa un fiume Mariglia sembra volersi strappare i capelli sembra come se abbia perso del tutto la sua lucidità si stropiccia la faccia si imbratta tuta diventa una maschera di sangue perché il sangue è davvero tantissimo infine Mariglia inizia ad agitarsi le gambe iniziano a tremare violentemente sta avendo degli spasmi delle convulsioni è in agonia nonostante questo lui la osserva non la aiuta sta in alto in piedi di fronte a lei e non la aiuta poi smette addirittura di guardarla dice poi però la riguarda le gambe di Mariglia vibrano i talloni sbattono con il suono di un tip tap funebre sul pavimento lui si china le mette le mani sulla faccia sulla testa poi la prende per il collo e stringe mentre lo fa le gambe di Mariglia continuano ancora a sussultare e poi alla fine non tremano più lui dice ho stretto pochissimo ricorda questo di aver stretto pochissimo è stato così semplice toglierle la vita a lei e al suo bambino perché infatti la vita l'ha lasciata la vita ha lasciato Mariglia e quella del suo bambino in quell'ufficio questa è tutta la cornice che Claudio Grigoletto racconta prima in caserma e poi anche sul banco degli imputati nel processo quindi si dipinge in sostanza tirando le fila come un uomo debole i cui eventi della vita lo hanno portato a compiere gesti assurdi quasi come se tutto ciò che ha fatto non fosse responsabilità sua cioè le difficoltà economiche le scelte lavorative che ha fatto la perdita del lavoro sicuramente non è colpa sua ma il tentativo di far decollare un altro lavoro ancora i debiti i soldi che non ci sono la casa che tenta di comprare la moglie Jessica a casa che chiede di più una figlia piccola un'altra in arrivo un'amante appassionata che si trasforma in un gigantesco problema con un ventre gravido e un desiderio di vendetta e che lo tratta come se lui fosse un bancomat e che addirittura è anche aggressiva con lui verbalmente e fisicamente lui si racconta come una vittima di questi eventi non come il protagonista e quindi a un certo punto è ovvio lui salta si stappa il cervello si allenta e quel giorno ciò che lo domina è una furia che non credeva di possedere che lo porta ad un raptus omicida lui racconta questo ma qualcuno non gli crede non so voi cioè noi non siamo qui a giudicare noi raccontiamo i fatti però vi potete fare un'idea c'è chi gli crede e chi non gli crede l'accusa ad esempio è comita di altro cioè che quando Mariglia quel giorno entra nell'ufficio è già una condannata a morte perché lui ha già deciso che lei deve morire a Claudio Grigoletto ovviamente non è che si fanno accusa a caso vengono contestate alcune cose che non tornano proprio sulla scena del delitto vediamole insieme la famosa guida di legno del tavolino Ikea e le forbici dovevano trovarsi a terra vicino al corpo di Mariglia e invece non c'erano la guida di legno era su uno scaffale e le forbici al loro posto dalle informazioni poi rese dal personale dell'hotel Sullivan Claudio la mattina del 29 agosto si è rifiutato di andare a prendere in hotel Mariglia chiedendo invece alla donna di raggiungerlo da sola ed è stata proprio Mariglia a raccontarlo al personale dell'hotel e già era nervosa per questo lui nega lui anzi dice che si sarebbe offerto di prenderla subito se lei fosse stata troppo stanca o avesse avuto un malessere tale per non poter guidare 50 minuti chiaramente il sospetto è che lui non si volesse far vedere lì quella mattina con lei dal personale un altro fatto molto strano è che il personale dell'hotel che chiaramente è oggettivo cioè non ha nessun motivo di mentire dichiara che Mariglia stava effettivamente davvero malissimo lei non riusciva a trattenere nulla in corpo e viveva in stanza un inserviente le portava il cibo dentro la camera ma anche la aiutava ad andare in bagno perché Mariglia appena mangiava stava malissimo e non era nemmeno in grado di arrivare al water Claudio invece racconta una versione ancora diversa dice che è vero lei non stava benissimo ma mangiava addirittura anche nel ristorante dell'hotel in sua compagnia un altro punto molto discorde sono gli accordi presi tra Claudio e Mariglia Claudio ha dichiarato che lui e Mariglia non volevano stare insieme né formare una famiglia che erano d'accordo e lui era stato più che chiaro con lei eppure quando Mariglia va nelle varie agenzie a cercare casa o va a vedere le case si presenta tutti come Mariglia Grigoletto e non si capisce bene il perché di tante discussioni quel giorno il perché chiamare sua moglie corrotta se le cose erano già decise perché Mariglia vuole un trilocale e appunto non si accontenta se tanto per loro è già tutto ok perché inoltre Claudio toglie una donna incinta da un hotel senza avere un altro posto dove farla stare quella notte lui non aveva già prenotato un altro hotel non aveva già contattato un altro hotel a Gambara quindi sono tutte domande lecite che suggeriscono un'idea cioè che lui la fa uscire da quell'hotel per attirarla in una trappola ed ucciderla senza pietà lei e il loro bambino lui l'ha uccisa a strangu... e non è stato nulla come lui ha descritto e questo non lo dico io ma lo dice un medico legale perché ci sono voluti almeno 5 minuti per ucciderla che è un tempo molto lungo in realtà Mariglia non è morta perché ha sbattuto la testa ma è stata soppressa attraverso un mezzo che sono le mani di Claudio Grigoletto torniamo lì ok Mariglia è a terra non si muove più ma ora ci chiediamo che cosa ha fatto dopo Claudio Grigoletto perché stando al suo racconto visto che è stato un impeto lui quantomeno dovrebbe perdere la testa ora Claudio racconta di essere rimasto a fissare il corpo di Mariglia per un tempo interminabile ricorda anche di sentire in lontananza solo il rumore del ventilatore acceso alle sue spalle rimane lì impietrito poi lui versa sul corpo di Mariglia ammoniaca acqua e acido muriatico ma non sa dire perché poi ricopre il corpo con dei fogli di giornale cioè proprio appiccica i fogli di giornale sopra il corpo della povera Mariglia che ovviamente si inzuppano questi fogli di giornale e poi cerca di dare fuoco al corpo di Mariglia con un accendino di quelli piccolini vi preciso che un accendino era anche tra le mani rigide di Mariglia ma Claudio dirà di non sapere perché fosse lì di non averlo notato ma soprattutto ora noi ci chiediamo ma perché Claudio Grigoletto acquista ammoniaca e acido muriatico quel giorno e poi tra l'altro quelle due sostanze le getta sul corpo di Mariglia secondo l'accusa chiaramente per compiere il delitto Claudio secondo l'accusa chiaramente per compiere il delitto quei veleni gli servivano Claudio invece non sa spiegare perché li ha versati ma sa spiegare perché li ha comprati lui e Mariglia avevano notato degli escrementi probabilmente di cane sui gradini che portavano all'ufficio e quindi volevano pulire tutto l'ammoniaca invece serviva per pulire delle ceramiche come io ho detto dentro agli scatoloni da appendere e anche i sanitari insomma dovevano pulire l'ufficio perché ovviamente è coerente loro stavano per aprire al pubblico ovviamente ci sono degli scettici cioè con tutti i prodotti che ci sono in commercio anche green che puliscono bene eco bio prodotti comunque anche adatti alle donne in gravidanza Mariglia chiede di acquistare acido muriatico e ammoniaca e oltretutto l'acido muriatico da utilizzare su insomma sui gradini di marmo cioè insomma non è proprio il top a sostegno di ciò Claudio Grigoletto dice che è stata proprio Mariglia a dirgli di comprare quei particolari tipi di detergenti perché lei era una maniaca delle pulizie abituata ad usare detergenti aggressivi come quelli ma noi possiamo pensare che una donna provata come Mariglia che al momento del decesso pesava malappena 41 chili al quinto mese di gravidanza in pieno agosto affaticata accaldata con la sua situazione anche di salute e compromessa cioè noi possiamo pensare che lei avesse davvero la voglia di pulire con ammoniaca e acido quel giorno il suo odore la faceva vomitare e come vi avevo già detto il personale dell'hotel Sullivan aveva sottolineato come Mariglia andasse accompagnata in bagno addirittura per lavarsi il viso o per usare il gabinetto perché era debolissima Claudio si giustifica dicendo che casomai avrebbe pulito lui e che comunque aveva anche cercato la tossicità di quei prodotti su internet per tutelare Mariglia il bambino ma poi alla fine li aveva acquistati comunque poi Claudio continua il suo racconto dice di aver svitato questo bullone del tubo del gas e di averlo aperto poi però aveva aperto anche due finestre per evitare che saltasse tutto in aria e per fare in modo che qualcuno alla fine sentisse l'odore e scoprisse il corpo poi va a Bedizzole ok va a lavorare ha in programma quel giorno degli addestramenti e lui lo fa riesce ad andare a lavorare fa lezioni di volo quindi si alza su con l'aereo con una persona a fianco di cui è responsabile poi lui si fa la sua bella doccia va a casa va dei genitori sta con la moglie sta con le bambine a cena ok lui comunque è una persona che per la prima volta ha fatto male ad un altro essere umano ha ucciso in maniera veramente violenta una donna con cui aveva una relazione e il loro bambino lui dice che però ci riesce perché era come se fosse scollegato lui sa di averlo fatto ma è come se lui in fondo in fondo non l'avesse fatto quindi riesce ad avere una lucidità estrema tanto da volare su in alto con l'aereo con enorme sangue freddo lui passa due giorni così tranquillo sapendo comunque che prima o poi sarebbero andati a prenderlo e quando anche lo vanno a prendere lui continua a negare dice che vuole prendere tempo per stare un altro po' con le sue bambine invece secondo l'accusa la scena del crimine non è stata così improvvisata ma è stata organizzata la ragazza ha delle bottiglie vuote quelle usate insomma per per ucciderle in parte comunque per distruggere il suo corpo ha queste bottiglie intorno al suo al suo corpo intorno al perimetro del suo corpo sotto al suo corpo ci sono delle spugne che erano state utilizzate per pulire senza successo il sangue ed è come se a un certo punto Claudio avesse il suo piano però fosse stanco fosse troppo stanco non volesse sistemare tutto e quindi abbia detto ma si lascio tutto così apro il gas e me ne vado tra l'altro l'accusa sottolinea anche che lui è consapevole quando apre il gas di poter far saltare in aria tutto l'isolato causando anche danni a altre persone quindi lui non si fa scrupoli per cancellare ogni cosa a far saltare l'intero stabile e tutte le persone che ci vivono dentro ed è qui che si aggiunge un particolare che vi ho citato all'inizio ovvero la chiave pappagallo la chiave inglese con cui Claudio ha svitato il bullone del gas questa chiave inglese come vi ho detto non era lì in ufficio ma era tenuta sotto chiave nella cassetta degli attrezzi al campo volo e la chiave la possedevano solo due persone il manutentore del campo Stefano Pezzi è Grigoletto quindi quella chiave inglese era stata prelevata prima dell'omicidio e questo è un fatto Claudio dichiara di aver prelevato quella chiave una settimana prima ed ha una motivazione incredibile e stentata a inizio mese di agosto Claudio sente che la situazione sta precipitando intorno a lui e si trova senza via d'uscita Mariglia è sempre più fuori controllo lui deve parlare con sua moglie e deve spiegarle che cosa ha fatto il lavoro va malissimo non ha più un soldo da sbattere sull'altro ha soltanto problemi ha soltanto responsabilità allora lui si prende quel pappagallo perché inizia a pensare concretamente a farsi del male la macchina contro l'albero l'aereo che si schianta una corda delle lamette ma poi aggiunge anche questa nuova possibilità il gas un tentativo sicuramente molto più ostico se ci pensiamo ci tengo a precisare che Claudio Grigoletto parla però del pappagallo e del gas solo al processo quando gli chiedono perché abbia preso quel particolare tipo di chiave inglese lui si ricorda lì mentre depone di questo fatto quindi aveva già detto in precedenza di volersi togliere la vita ma non con la chiave inglese e il gas oltretutto questo è un tentativo anche piuttosto goffo perché inalare del gas metano non uccide ma piuttosto fa saltare tutto in aria poi però Claudio dice che lui non ce la fa ha paura di morire e soprattutto non vuole morire soffrendo afferma di averci pensato tante volte però il pensiero della moglie e delle figlie a casa lo distoglieva lui quindi quando partiva verso un monte per farla finita una volta si porta dietro una corda un'altra volta le lamette Jessica quando lui però è lontano gli invia sempre delle foto delle bambine e a lui alla fine manca il coraggio e torna indietro da lei quindi Claudio racconta di essere arrivato in quel periodo ad una profonda depressione a una situazione di stress estremo e quindi ha dei propositi sempre più cupi verso se stesso si sente così angosciato senza speranza senza una via d'uscita proprio messo all'angolo una settimana prima dell'omicidio di Mariglia poi avviene un'altra cosa una cosa molto particolare una cosa che lo mette ancora più alla corda lui decide appunto di fare un weekend con la sua famiglia di prendere su Jessica e le loro bambine e staccare un po' la spina propone di andare via da venerdì a domenica di fare un weekend in montagna sono due giorni splendidi racconta sta solo con loro stacca il telefono insomma se la gode nel viaggio di rientro quando riaccendono i telefoni perché si sono isolati un po' da tutto Jessica riceve un messaggio su Facebook da un anonimo in questa chat le viene detto che Mariglia Rodriguez è incinta di suo marito e che loro presto si sposeranno e Mariglia sta già addirittura scegliendo l'abito del matrimonio questa persona però non vuole rivelare la sua identità quindi Claudio accosta nella piazzola di servizio mentre le bimbe sono dietro lui inizia a fumare piange nega tutto a quel punto iniziano a piangere anche le bambine quindi loro ripartono ed è il 25 di agosto manca pochissimo alla morte di Mariglia questo è un evento molto importante Claudio però tornato a casa di fronte anche alle domande incalzanti di Jessica riesce a non confessare fa finta di nulla e prova anche a depistare si crea un account fasullo da cui si autoinvia delle mail una è proprio del 25 agosto del 2013 e recita così ciao Claudio ti scrivo queste mail per dirti cosa sta succedendo ho scoperto di essere incinta sto già al terzo mese e sto entrando nel quarto io e Paolo siamo felici ma abbiamo deciso di non dire niente a nessuno perché abbiamo qualche problema con il mio ex ci farebbe piacere vederci potremo fare anche mercoledì prossimo saluti anche da Paolo che è qui con me Claudio ovviamente mostra queste mail alla moglie chiedendole anche di andare a questo incontro con lui il 31 agosto quindi di andare con lui con Mariglia e con Paolo perché così avrebbero chiarito tutto e di fronte ad una proposta di questo tipo Jessica possono credergli ma noi ci chiediamo come caspita avrebbe fatto non c'è nessuna Mariglia disposta a dire questo e soprattutto nessun Paolo quindi come uscirne Claudio dice che aveva già messo in conto due opzioni confessare tutto alla moglie ma allora perché non farlo subito e togliersi la vita l'accusa invece pensa che lui avesse in sarbo una terza opzione quella che ha attuato cioè eliminare Mariglia alla fine Claudio non sarà mai sincero con sua moglie Jessica lei scoprirà la relazione solo quando i carabinieri il 2 settembre in caserma le mostrano alcune foto presenti sul cellulare di Mariglia ci sono foto di Claudio e di Mariglia abbracciati che si baciano con le mani strette lui con le mutande abbassate in hotel lei in intimo la moglie a questo punto affronta Claudio gli chiede ma che cosa ti ha saltato in testa è stato bello almeno o ti sei pentito domande che sicuramente possono risultare anche comprensibili da parte di una donna ferita ma che comunque sono come pugni allo stomaco se si pensa al prezzo di questa relazione una donna incinta morta uccisa barbaramente un figlio mai nato una famiglia cioè anche quella di Claudio distrutta due bambini piccoli senza un padre lui le risponde con voce e con tono bassi molto remissivo con la testa bassa è stata una stronzata è durata pochissimo non significava nulla per me non ha una parola di di rammarico per Mariglia lei quando ha questa conversazione con lui non sa che è stato lui ad ucciderla perché lui non ha ancora confessato e lei dice questo a lui guarda io sulla scappatella ci posso anche passare sopra perché ti amo e non ti lascio solo non ti lascio solo in questo momento di difficoltà ma tu non fare stronzate andiamo avanti io te e le bambine non ti lascio così solo nella mer quindi questa donna la moglie di Claudio lo ha già perdonato voi pensate un po' quindi lei ha appena scoperto che lui la tradiva che la sua amante era incinta che è morta e che è stata ritrovata nell'ufficio di suo marito e lo ha già perdonato è già insieme a lui ma lui di fronte a questo atto comunque di abnegazione di sua moglie anche questa volta non le dice la verità non a lei anzi la guarda dritto negli occhi e le dice se mi tengono qua tu ricordati che io non l'ho uccisa non credermi è capace di questo e se mi vuoi a casa con te verrò a casa ma c'è anche un altro documento davvero inquietante che purtroppo non posso mostrarvi perché con i video si fa molta fatica su youtube c'è un altro documento che mostra come Claudio e Gregoletto sia certamente capace di mentire di glissare di manipolare la mente delle persone di gettare fumo proprio negli occhi degli altri pur di salvarsi a un certo punto nell'aula dell'interrogatorio fanno entrare un certo Paolo a cui Gregoletto si riferiva vi ricordate nella sua finta email lui è un conoscente di Claudio ed è stato anche lui chiamato perché anche lui ha avuto una relazione con Mariglia una breve relazione quando i due iniziano a parlare Claudio si mostra spaisato franto gli dice io non riesco a farmi una ragione se fosse stato un incidente ok ma un omicidio dentro il mio ufficio non ci potrò più entrare lì e Paolo gli dice mamma mia ti capisco ma tu lo sai che io e lei ci siamo frequentati per un breve periodo anche Paolo chiaramente è spaventato poverino lui non c'entra niente e Claudio a questo punto dice a Paolo sì sì ma lei mi parlava in continuazione di questo Paolo che era rimasta incinta di lui ma sai io non potevo immaginare che quel Paolo fossi te lei mi diceva sempre Paolo 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 ma a me non me ne fregamo un cazzo cioè e Paolo a quel punto poverino è anche abbastanza smarrito dice io sono stra sicuro che non può essere mio figlio ma sai a questo punto mi viene da pensare proprio di tutto ci siamo ci siamo arrivati no tutti questa conversazione ci fa capire una cosa che Claudio è consapevole di essere intercettato è estremamente lucido è capace di fare qualsiasi cosa pur di salvarsi anche suggerire che fosse proprio quel Paolo lì il padre del bambino non ha problemi a mentire guardando in faccia le persone e incolpare altre al posto suo durante il processo in aula Mariglia viene descritta tratti come una donna spregiudicata dal carattere prevaricante tendente all'ira alle scenate di gelosia una approfittatrice che di solito aveva questi rapporti intimi non protetti con gli uomini insomma riteneva di non poter rimanere incinta o non se ne curava Claudio invece viene descritto dalla difesa come un uomo mite e gentile citando le parole del parroco della sua zona don Giovanni Rizzi come pacifico serio e responsabile puntano sul fatto che anche lui sia una vittima alla fine una vittima di un grande stress che chissà che si è creato insomma l'accusa invece va a mostrare alcuni filmati di Mariglia e Claudio insieme pochi giorni prima che lei morisse sia al bar che all'hotel sono filmati tranquillissimi però allo stesso tempo sono agghiaccianti perché Claudio non la degna di un'occhiata non la tocca mai non la guarda non le apre la porta non le porta le valigie sembra proprio come se lei non sia accanto a lui e lei fa tanta tenerezza perché sembra un airone è magrissima questa pancia appena accennata sembra veramente un fuscello e sembra anche un po' smarrita insomma lei gira attorno a lui che non la degna di un'occhiata e questo perché per l'accusa lei già nella sua testa era morta era un problema in meno per la difesa invece tutt'altro Claudio Grigoletto non aveva obblighi verso Mariglia se non morali eppure era comunque premuroso con lei le baciava la pancia ogni giorno che entrava in ufficio però lei pretendeva sempre qualcosa in più l'auto la casa bella le coccole le attenzioni il biglietto di aereo per la mamma quindi lei era una donna che non si accontentava nonostante sapesse che il suo uomo era molto preoccupato al verde chi la spunterà accusa o difesa l'accusa a questo punto chiaramente ricostruisce la sua versione della dinamica dei fatti quel giorno cioè che Claudio attira Mariglia nell'ufficio e che ha già preparato tutto prova dunque assordirla perché non è un genio del crimine con l'ammoniaca quindi cerca in qualche modo di farla star male ma non ci riesce e quindi passa l'azione la colpisce con questo marrovescio fortissimo testimoniato anche da una ferita che Claudio ha sulla nocca nel punto in cui lui ha preso ha urtato l'orecchino di Mariglia che è stato ritrovato a terra lei quindi colta la sprovvista e dal momento che pesava quanto un foglio di carta è volata proprio è andata a schiantarsi a terra lei non l'ha mai credito con le forbici e il bastone no secondo l'accusa lei si è difesa però graffiandolo in viso anche se lui poi dirà che quei graffi che è sul viso sono stati fatti dalle sue bambine e poi lui la soffoca in seguito sistema il corpo così anche in maniera molto passiva si fa una doccia alla pista di Bedizzole fa le sue lezioni di volo serafico va a casa gioca con le bimbe cena tutto regolare dirà di non essersi consegnato subito per stare almeno con le sue figlie gli ultimi giorni due figlie piccolissime quindi per Claudio viene richiesto l'ergastolo e la pena viene accolta il padre si è espresso in maniera molto sfavorevole a questo il padre di Claudio ha detto che per lui l'ergastolo è troppo è una pena troppo severa perché suo figlio è vero ha sbagliato tanto ma comunque secondo il padre un ragazzo come lui dovrebbe in qualche modo non essere punito e basta ma anche essere recuperato dice una frase molto forte dice a questo punto rimettiamo la pena di morte così la finiamo qui perché con l'ergastolo gli viene negato qualsiasi tipo di recupero Claudio Grigoletto chiaramente si è appellato a questa sentenza e con il ricorso la sua posizione si è alleggerita e quindi alla fine non ha il fine pena mai scusate il gioco di parole ma deve scontare 30 anni quindi uscirà Natalia Silva che è la madre di Mariglia ha continuato le sue battaglie legali per vedersi almeno risarcita dall'uomo è arrivata in Italia per abbracciare la salma della figlia e riportarla a casa e si è resa anche partaccipe di un momento molto molto delicato e commovente con il padre di Claudio che gli ha detto anche io non ho più un figlio ora sinceramente empatizzo spesso con i genitori anche dei carnefici perché penso che a volte queste famiglie soffrono moltissimo ma che non abbiano quasi il diritto di soffrire per la società comunque Claudio doveva 150.000 euro alla madre di Mariglia e 150.000 al padre ma pare che lui si sia in fretta di sfatto di tutto ciò che possedeva intestando alcune cose anche alle figlie piccole pur di non doverlo dare ai parenti di Mariglia e questo è quello che pensano i familiari la madre di Mariglia ha comunque avuto la forza estrema di perdonarlo lo ha detto un anno dopo la vicenda lui non si rende conto di ciò che ha fatto ma ora non è più un problema mio ma è una questione tra lui ed io io non sono in grado di dire se lui meriti il mio perdono ma io sicuramente merito la pace perché se io non perdono come faccio ad andare avanti io non so se Jessica sia ancora a fianco di Claudio credo di no ma non ho trovato delle informazioni precise quello che mi auguro è che Jessica stia vivendo una vita serena con le sue figlie che insomma abbiano ritrovato per quel che è possibile una pace insomma Claudio Grigoletto non so quando uscirà ma in questo momento sta scontando la sua pena Mariglia è ritornata in Brasile come sempre io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi noi ci vediamo ogni martedì alle ore 20 a e a a a a Grazie a tutti